Tua sorella che si chiama? Manola. Manola. Pami, ciao. Ehi, come stai? Dai, su, eh. Bene, non mi vedi? No, dimmi, dai, come stai? Tu come stai? Come è stata a casa? Noi stiamo benissimo tutti, mamma, 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 la nonna, sta bene, stiamo tutti benissimo. Fili, ci sentiamo? Sta benissimo, sta facendo le sue cose e sta benissimo. Tu piuttosto, come stai? No, l'importante è che state tutti bene voi, perché ho bisogno di sentire qualcuno. Lo so, lo so, infatti sono qua, ascolta, sei bellissima, sei bravissima e stai andando alla grande, veramente, Pami, stai uscendo tu per come sei veramente, sei una grande, sei una guerriera, sei fortissima, Pami. Davvero, eh, continua così. Io ce la metto tutta. Pami, continua così. Ha proprio bisogno di sentire qualcuno. Lo so, lo so, guarda, lo so. Continua veramente così perché sei una grande, veramente. Siamo tutti orgogliosi di te, ma tutti, Pami, tutti, la famiglia, gli amici, tutti.